Iniziamo con l'intervento di Igor Daelli che è un giovanissimo esperto in sviluppo web per un'agenzia milanese, giusto? E oggi ci parla di un argomento molto importante di cui tutti dovremmo, quando gestiamo un sito web, dovremmo avere qualche base per lo meno, ovvero i trucchi per rendere veloce il nostro sito web. Quindi lascio la parola a Igor e poi domande dopo, preparatevele se ne avete. Grazie. Grazie a tutti, buongiorno, io sono Igor, mi occupo dello sviluppo di siti web. In questo talk oggi vedremo otto trucchi, ovvero otto step per velocizzare un sito web. Una presentazione brevissima su di me. Lavoro come consulente digitale, ottimizzo i siti web con l'obiettivo di fornire delle soluzioni veloci e che quindi possano incrementare le vendite di un'azienda o di un professionista. Ma partiamo subito. Allora, l'importanza di un sito web veloce. Oggi si parla sempre più spesso di siti web. Con WordPress si ha la possibilità di realizzare siti in maniera semplice alla portata di tutti. Con questo si aggiungono plugin, temi multi-purpose e così via. Abbiamo dei siti sì che sono belli, però sono lenti da caricare. Per quanto riguarda quindi l'importanza di un sito web veloce, entra in gioco la SEO. Come sempre di più Google tiene conto la velocità del nostro sito web come fattore di ranking. Google non solo vede il tempo di caricamento della nostra pagina, ma vede anche tutti quei dettagli che influiscono sul caricamento. Quindi sia il page load time, il peso della pagina, il time to first byte per quanto riguarda l'hosting ed altri dettagli. Quindi è importante ottimizzare il sito sia per ottenere un buon posizionamento su Google che per ottenere anche dei risultati per quanto riguarda la user experience. È provato ormai che gli utenti tendono ad abbandonare un sito web che impiega oltre tre secondi a caricare. Quindi un sito web veloce si converte in un sito web che funziona per Google, quindi potrà essere posizionato sicuramente in maniera migliore sia per gli utenti che tendono sempre a volere una risposta immediata e quindi vogliono il sito web veloce per avere subito la risposta. Su un sito web lento che impiega più di tre secondi a caricare, circa il 40% degli utenti abbandona il sito immediatamente. E di questo 40%, l'80% non ci torna più sul sito. Questi sono dati presi da internet, da blog, comunque autorevoli. Allora, partiamo subito con il primo punto di questo talk. Il primo punto parlerà di performance test, ovvero tutti quegli strumenti che ci permettono di analizzare le performance della nostra pagina. Avere questi strumenti è importante. Tuttavia non bisogna focalizzarsi semplicemente ad ottenere un punteggio 100 su un tool piuttosto che l'altro, ma bisogna andare ad analizzare questi dati e trarne degli spunti per andare a sistemare eventuali problemi che rallentano la velocità della nostra pagina web. Prima di tutto, come si può pensare Google, si può pensare che utilizzi PageSpeed Insights per analizzare le nostre pagine. Invece non è così. Google non utilizza PageSpeed Insights, non utilizza la funzione performance di Analytics, ma utilizza un altro strumento che fa il crowdsourcing da dati di utenti reali. Quindi è necessario ottimizzare il proprio sito, non tanto basandosi semplicemente su questi strumenti, ma andando ad analizzare bene tutti i dati per capire qual è il tempo totale di caricamento di una pagina. Quindi Google analizza i siti web grazie a questa estensione di Chrome che installiamo direttamente l'utente, installa e prende i dati per capire se il sito va veloce. Raggiungere il punteggio 100 su PageSpeed non deve essere l'obiettivo finale. Può esserci un sito che ha un 100 su PageSpeed piuttosto che una A su GTmetrix, che però non è effettivamente veloce. Perché? Perché il test non è stato effettuato in maniera corretta, piuttosto che è stata utilizzata una posizione del test troppo lontana rispetto al target di riferimento del nostro sito, quindi potremmo riscontrare dei valori che non sono poi così attendibili. L'analisi del sito si deve basare sia su una parte back-end che su una parte front-end. Bisogna lavorare sì sulla parte front-end, quindi sull'ottimizzazione delle risorse JavaScript, CSS, immagini e così via, ma bisogna lavorare anche sul back-end perché è questo che influisce un 20% del restante 80% delle performance di una pagina web. Quali sono i valori da tenere in considerazione per analizzare una pagina web? Il primo punto è il Total Page Sites, ovvero il peso totale che una pagina ha, può essere la Homepage o qualunque altra pagina. Il peso totale è determinato da tutte le risorse che la compongono, quindi dalle immagini, dal JavaScript, dal CSS. Solitamente il peso ideale di una pagina web può essere tra un megabyte, un megabyte e mezzo. Poi ci sono pagine che per necessità e esigenze differenti possono pesare anche di più e lì allora si va a lavorare su altre tipologie di ottimizzazione. Il secondo punto è il First Paint, ovvero il tempo necessario per vedere il primo contenuto visibile nella pagina. In questo caso si parla di velocità percepita, quindi il sito carica sì in 4-5 secondi, ma l'utente comincia a vedere il primo contenuto già dopo il primo, secondo, secondo. Per utilizzare First Paint si può utilizzare la tecnica dell'Above the Fold, quindi che elimina tutto il CSS che va a bloccare il rendering della pagina. In questo modo rendiamo subito visibile all'utente il testo piuttosto che il titolo di un articolo, se parliamo di un blog, e rendiamo disponibile in un secondo momento il footer, l'header, il menu e tutte le seconde parti che compongono una pagina web. Il terzo valore da tenere in considerazione è il Page Load Time, ovvero il tempo di caricamento che impiega una pagina web a caricare. È importante basarsi sul valore in secondi del caricamento della pagina web, ma bisogna valutare la posizione da cui si effettua il test ed altri dettagli che entrano in gioco sull'analisi di una pagina. Il quarto punto è il Time to First Byte, ovvero il tempo che impiega il browser dell'utente a raggiungere il server. Ogni file JavaScript, ogni file CSS e ogni immagine effettua una richiesta HTTP al server. Quando quindi il numero di richieste HTTP anche è notevole, il tempo per effettuarne ognuna conta. Possiamo quindi sì avere un sito che impiega tre secondi a caricare, ma poi ha un Time to First Byte dovuto a problemi sull'hosting che ne aggiunge un altro in più, piuttosto che si parla di millisecondi solitamente. Il quinto punto sono le richieste, ovvero quante richieste HTTP fa una pagina web, quante richieste fa per il CSS, per il JavaScript e per le immagini. Qui bisogna tenere conto le richieste interne e le richieste esterne. Le richieste interne ovviamente sono più rapide essendo nella rete locale del nostro hosting, mentre le richieste esterne impiegheranno più tempo a raggiungere la destinazione. Il sesto punto da tenere in considerazione è il paese di origine del test. Tutti gli strumenti che ci sono per analizzare le performance di una pagina fanno scegliere la località del test. Questo influenza molto il risultato che si ottiene. Quindi è necessario scegliere una locazione del test in base al target di riferimento del nostro sito. Se poi si parla di siti fruibili a livello internazionale possiamo utilizzare il test su più paesi anche per verificare l'efficacia della nostra CDN piuttosto che del DNS. Il secondo step è proprio il server DNS che spesso è un fattore che non viene preso in considerazione fin da subito quando si fa la scelta dell'hosting provider. L'hosting si sa che è uno dei fattori fondamentali per la velocità del sito web e per il successo del sito web ma è importante anche sapere che è necessario una velocità del server DNS a risolvere un nome di dominio in indirizzo IP in tempi rapidi. La posizione del data center è quindi un fattore fondamentale per il sito web e anche il server DNS che deve essere posizionato in più punti qualora il sito fosse fruibile in più paesi. Ci sono casi in cui il sito può essere disponibile su un server dedicato su una macchina in cloud o comunque un hosting performante ma il dominio si trova su un registrar scarso dove il DNS non riesce a risolvere le richieste in tempi accettabili e quindi potrebbe anche sovraccaricarsi o essere addirittura saturo e non riuscire ad inoltrare il traffico alla nostra macchina di hosting. Come funziona la risoluzione del DNS? La risoluzione del DNS consiste semplicemente nella traduzione del nome di dominio quindi www.ilnostrosito.it in un indirizzo IP. Questo compito lo fa il domain name system che deve risolvere nel minor tempo possibile la richiesta del nostro utente. Se il nostro DNS server è in Italia e ci visita un utente dagli Stati Uniti ovviamente il tempo per risolvere questa richiesta sarà maggiore più l'utente lontano sarà maggiore. Per ovviare a questo problema si può utilizzare qualsiasi servizio come Cloudflare ad esempio che mette a disposizione dei name server in base alla location dell'utente che ci visita che si autopopolano con i nostri record quindi l'utente otterrà una risposta immediatamente dal nostro DNS più vicino e di conseguenza da un eventuale CDN per rendere fruibili i contenuti quali le immagini e le risorse statiche. Il terzo punto è la cache client side quindi quell'area del computer del dispositivo dell'utente che ci visita che ha il compito di memorizzare tutti i contenuti statici del nostro sito. Quando un sito web quindi viene memorizzato nella cache dell'utente si intende che sono stati archiviati nella sua memoria fissa del computer o del cellulare in modo che la seconda volta che verrà a visitare il sito riuscirà ad accedere più velocemente grazie a questo storage a livello locale. Ogni volta che l'utente effettuerà una richiesta al sito non dovrà effettuare una query effettuare una chiamata al server HTTP al server DNS per risolvere tutte le query del database ma avrà semplicemente una risposta di un contenuto statico. D'altra parte abbiamo la cache server side che ha lo stesso concetto della cache dell'utente ma viene fatta lato server. Senza la cache server side l'utente che visita il sito avrà come risultato una risposta di una pagina HTML che viene generata dinamicamente richiamando degli script PHP che ne richiamano altri che di conseguenza richiamano delle query al database mentre con la cache server side il sistema di caching fornisce all'utente una pagina statica in HTML che è già stata generata una prima volta alla modifica della pagina o alla prima visita dell'utente senza dover richiamare tutte le volte script PHP e query al database. Il quarto punto che può incidere molto sulla velocità del sito web soprattutto quando ci sono tante immagini e tante richieste HTTP quindi è il lazy loading. Il lazy loading è una tecnica di ottimizzazione del sito web che consiste nel caricare una risorsa solo quando essa è necessaria da parte degli utenti perché devo caricare tutto quello che c'è below the fold quindi che non è nel viewport dell'utente quando posso caricarlo semplicemente al momento della necessità. Il lazy loading effetta quindi il caricamento di una risorsa in modalità on demand. Come dicevamo l'utilizzo della tecnica del lazy loading consente di risparmiare tempo di caricamento quando le immagini piuttosto che qualsiasi altra risorsa ha un numero abbastanza notevole. Il quinto punto sono le immagini SVG. Le immagini SVG sono delle immagini scalabili che ormai sempre di più si cominciano ad utilizzare sul web e consentono di mettere a disposizione un'immagine scalabile e vettoriale. Da oltre 15 anni il formato SVG è una standard del V3C il World Web Wide Consortium ma soltanto ultimamente negli ultimi anni è stato cominciato ad utilizzare effettivamente su tutte le pagine web. Perché questo? Perché il nostro Internet Explorer anche non ha mai fornito il supporto completo a SVG quindi aveva una limitazione per gli utenti che visitavano il sito da questo browser. Tuttavia negli ultimi anni sono stati implementati ed è reso standard per tutti i browser. Quindi un'immagine vettoriale a differenza di un'immagine a pixel quindi un'immagine bitmap è possibile ridimensionarla senza perderne la qualità ed è possibile renderla disponibile per tutti i dispositivi in maniera scalabile. Un buon modo di cominciare con l'SVG sono sicuramente le icone. Creare, risparmiare spazio sulle icone può influire anche questo sulla velocità del sito web. In questa slide vediamo la differenza del peso tra un'immagine PNG e un'SVG di un'icona di un sito. Ho preso questa icona che ho inserito ultimamente in un sito in PNG pesa 215 KB mentre in SVG ne pesa 13. Questo è un banalissimo esempio della differenza di peso. Stiamo parlando di dimensioni molto basse però su delle immagini magari di una certa dimensione è possibile risparmiare diversi KB. Il sesto punto sono le richieste HTTP che fa il browser quindi il nostro utente al nostro server. Una pagina web è composta da risorse JavaScript da risorse CSS da immagini e da molte altre risorse. Ognuna di queste è una richiesta HTTP al nostro server. Qual è il numero ideale di richieste HTTP che deve fare un browser al nostro server? Non c'è un numero ideale. La prima ipotesi che tutti possano pensare è minifico tutto e vado a concatenare tutte le risorse JavaScript e tutte le risorse CSS in un unico file. In questo modo sì, abbiamo creato una sola chiamata HTTP per il CSS ed una sola per il JavaScript ma stiamo fornendo un file che è pesantissimo. Quel JavaScript e quel CSS non sarà necessario su tutte le pagine quindi è necessario anche fare un'analisi dettagliata di quali risorse servono su quali pagine e di conseguenza poi andare a concatenare tutte le risorse in una, due o tre richieste per il JavaScript e altre per il CSS. per diminuire le chiamate HTTP ho portato questo caso che mi è capitato su un sito ma capita spesso parlo del plugin WPML questo plugin solitamente il language switcher mette tutte le bandiere delle traduzioni del nostro sito ognuna di queste effettua una chiamata HTTP mi sono trovato su un sito che era tradotto in oltre 30 lingue con 30 chiamate HTTP a delle immagini che si avevano dei pesi irrisori dal punto di vista del peso ma erano comunque delle chiamate HTTP che avevano un time to first byte quindi rallentamento per il sito utilizzando la tecnica del CSS e image sprites è possibile creare un'unica immagine che le racchiude tutte solitamente si utilizza molto sulle icone o su tutti quegli elementi grafici che compongono una pagina così da fare una sola chiamata HTTP dal nostro CSS e rendere visibile solamente la parte che ci interessa qua vediamo ad esempio l'esempio che dicevo di vpml che richiama un file png quindi una richiesta HTTP per ogni bandiera del selettore della lingua utilizzando il CSS image sprites è possibile unire tutte le immagini in un'unica immagine principale richiamata una sola volta e tramite il CSS definiamo la regola che va a richiamare quella parte dell'immagine che contiene la bandiera italiana quindi dell'HTML richiameremo semplicemente la regola CSS questo può essere un buon modo per andare ad ottimizzare alcuni aspetti che rallentano il sito effettuando più richieste HTTP il settimo step è il the Q&Q che si tratta semplicemente del richiamare o non richiamare delle risorse nella nostra pagina web in informatica il the Q&Q ha un significato leggermente diverso mentre quando si parla di Wordpress si parla richiamare o non richiamare delle risorse CSS o delle risorse JavaScript come dicevamo prima tutti pensano di riuscire di poter richiamare un unico file JavaScript o un unico file CSS unificando tutto tutto il JavaScript e tutto il CSS ma non sempre è così appunto perché sennò troviamo delle risorse che sono pesantissime quindi è necessario fare un'analisi di cosa serve e su quali pagine serve al fine di avere il file più leggero per ogni pagina ad hoc studiato per quella un esempio è Contact Form 7 quanti utilizzano Contact Form 7? più o meno tutti penso un 80% utilizzerà questo plugin per i form di contatto nel 90% dei casi Contact Form 7 è richiamato solo nella pagina contatti però il plugin di Contact Form 7 richiama il suo CSS che definisce lo stile del form richiama il suo JavaScript che serve per fare la validazione dei campi inseriti dall'utente e lo richiama su tutte le pagine questo non è necessario quindi tramite il Dequeue Enqueue riusciamo a inserire questa semplice regola nel nostro functions.php del tema per andare ad eliminare ad esempio in questo caso il CSS di Contact Form 7 ma andrebbe fatto anche col JavaScript andare ad eliminarlo da tutte le pagine e richiamarlo semplicemente con un if solamente sulla pagina che ha come ID quella della pagina Contattaci un altro esempio potrebbe essere Revolution Slider che si trova quasi sempre in tutti i siti con temi multipurpose richiama le sue risorse spesso anche molto pesanti su tutte le pagine quando la home page è quella che lo utilizza principalmente l'ottavo punto è il protocollo Quick Il protocollo Quick è un nuovo protocollo introdotto da Google ufficialmente nel 2017 che consente anche qui di ottenere delle prestazioni maggiori in alcuni casi sulle nostre pagine web non è ancora integrato ufficialmente cioè ufficialmente non è ancora integrato principalmente in tutti i browser ma Google su Chrome ha già cominciato a farne utilizzo Quick sta per Quick UDP Internet Connection ed ha l'obiettivo di prendere tutto ciò che ha di buono il protocollo TCP attualmente utilizzato ed integrarlo con UDP UDP è un protocollo basato sull'Internet Protocol che è da sempre preferito per le sue basse latenze nell'ambito del gaming è molto utilizzato appunto perché non c'è bisogno di una risposta dal server di destinazione come fa TCP ed è possibile risparmiare tempo sulla latenza di connessione con il nostro server Google sostiene che Quick riesca a velocizzare le loro pagine sul motore di ricerca di circa un 3% che visto così può sembrare poco ma è sempre uno step per arrivare ad ottimizzare il nostro sito su siti web con maggiori risorse siti web più pesanti e meno ottimizzati piuttosto che su con utenti che hanno delle connessioni molto lente con delle latenze alte Quick può far notare delle prestazioni più notevoli gli utilizzatori di Chrome hanno già cominciato ad utilizzarlo non ne facciamo caso ma probabilmente sui siti che lo supportano già stiamo navigando con il protocollo Quick che è introdotto in Chrome leggevo proprio in questi giorni come su YouTube addirittura c'è integrando nel protocollo Quick la funzionalità del congestion control e del loss recover UDP come sono riusciti a diminuire il rebuffer dei video su YouTube di un 30% in meno per chi va su una pagina web quindi può essere un protocollo molto interessante anche che diversi hosting provider hanno cominciato ad integrare nelle loro infrastrutture ricapitolando wordless speed 8 step per velocizzare il sito abbiamo visto performance test quindi strumenti per l'analisi delle performance delle nostre pagine come non bisogna focalizzarsi semplicemente su ottenere un accento su GTmetrix piuttosto che su PageSpeed Insights ma è necessario analizzare questi dati e trarre uno spunto per risolvere i problemi che vediamo sulle nostre pagine il secondo punto il server DNS l'importanza del server DNS assieme alla scelta dell'hosting provider quindi i tempi di risposta del DNS se si parla di siti a livello internazionale la posizione del DNS in più punti e di name server distribuiti su diversi punti il terzo punto caching system tutto quello che consiste nel memorizzare nel server nel dispositivo dell'utente tutte le risorse statiche del nostro sito in modo da non richiamarle tutte le volte dal nostro server e non generare le query al database tutte le volte che un utente visita il quarto punto è l'exiloading che già può effettuare anche questo delle notevoli migliorie al sito ovvero caricare i contenuti solo quando effettivamente sono necessarie all'utente il quinto step il formato SVG come può farci risparmiare spazio per le dimensioni delle immagini sul web e un formato scalabile completamente su qualsiasi dispositivo il sesto step le richieste http quindi come andare a diminuirle concatenando tutto in un'unica risorsa ma stando attenti a non concatenare tutte le risorse che non sono necessarie su quelle pagine web dove non vengono utilizzati plugin o altre funzionalità che vengono richiamate su tutte le pagine di default il settimo punto è il the Q&Q ovvero richiamare o rimuovere le risorse javascript o css dalle pagine dove non sono necessarie quindi contact form 7 per fare ancora un esempio o revolution slider l'ottavo punto è il protocollo quick quindi il nuovo protocollo introdotto da google che mette insieme udp e tcp per trarne un miglior protocollo per me è tutto vi ringrazio e lascio spazio alle domande grazie Igor abbiamo delle domande? sì ma magari mi sentono o no come vuoi la registrazione ok allora sì grazie ciao una domanda per il primo punto non hai nominato audiz che è uno strumento di chrome sì non è un problema c'è un motivo particolare in realtà voglio indicare tre che sono per il che inizio principalmente nel mio lavoro ok ok no temevo ci fosse un motivo ma si dice così e poi ne ho un'altra quando hai nominato l'above the fold quindi il discorso di caricare alcune risorse prima o dopo dare la priorità dei contenuti all'utente a me viene un dubbio cioè vorrei approfondire questa cosa se l'utente va su una pagina inizia a vedere il contenuto della pagina ma non vede il menu non vede un'animazione non vede il footer il footer essendo in fondo magari ha meno problemi non può essere un problema a livello di usabilità per l'utente cioè è vero che carica prima la pagina è vero che dice però bisogna analizzare quali contenuti fornire prima all'utente e quali dopo solitamente qua si parla di velocità percepita dall'utente quindi fornire subito una risposta alla sua richiesta solitamente si manda in priorità il contenuto della pagina ovviamente non può mancare l'header perché se no l'utente si trova spiazzato non sa dove andare a muoversi all'interno del nostro sito comunque il footer potrebbe essere un elemento caricabile in una seconda fase ma quella è un'altra è il tempo in cui l'utente può cominciare ad interagire con il nostro sito a volte mi capitano situazioni in cui l'utente si perché legge già il contenuto però mettimi un loader all'inizio perché non voglio vedere l'animazione dopo banalmente e può essere problematico può essere anche questa una soluzione per cominciare a dare un primo caricamento della pagina web o un preloader delle pagine grazie a te ciao ho una domanda ho una domanda su ho una domanda sul punto 6 dove parlavi dei CSS sprite si quel sito lì era su http2 o http e basta con https era su http2 ma giustamente non vengono vengono unificate tutte le richieste effettuate dalle richieste http quindi è una sola però nel caso spero non ci siano siti semplicemente con il protocollo http ancora sarebbero state delle richieste singole quindi un time to first byte per ogni richiesta ok quindi non ho esperienza comunque a fare CSS sprite su http2 conviene CSS main sprite su http2 si ok grazie una domanda stupida ma non so la risposta allora google analizzi siti e da questo dipende da una valutazione da questa valutazione dipende il posizionamento si questa valutazione è data sull'intero sito o su ogni singola pagina google come dicevo all'inizio non utilizza gli strumenti che mette sia a disposizione a noi utenti ma utilizza questa estensione di chrome che gli strumenti degli sviluppatori di chrome grazie a quella riesce ad ottenere il tempo di caricamento di ogni pagina del sito che visita l'utente quindi ha dei dati provenienti da utenti reali quindi su ogni pagina può influire anche questo su non c'è una linea guida ufficiale su questo ma potrebbe influire su ogni pagina potrebbe avere un suo posizionamento in base alla sua velocità grazie ciao non hai parlato delle cdn per un motivo particolare perché non sono negli otto punti principali o altro sì non ho integrato la cdn perché solitamente si fa un'analisi più particolare quando si comincia ad utilizzare una cdn non sempre può trarne vantaggio e non sempre è utile utilizzarla ovviamente su siti a livello internazionale rendere i contenuti in più punti disponibili e quindi avvicinarli agli utenti può aiutare il caricamento del anzi aiuta sicuramente il caricamento del nostro sito è uno step sicuramente necessario quando si parla di siti internazionali posso fare una domanda hai parlato delle immagini svg ma non di web p sì web p l'ho escluso non l'ho mai utilizzato particolarmente sulle pagine web perché ho avuto anche dei problemi a livello di integrazione in realtà comunque anche quello è un formato di immagine alternativo all'svg che viene più utilizzato per le icone e per tutti gli elementi grafici web p consente anche di ottimizzare in maniera notevole delle immagini jpeg o png comunque immagini fotografie grazie io avevo avevo una domanda ho una domanda più che una cosa un po' parere cioè nonostante si punti sempre di più sulla velocità del sito il trend dello sviluppo è quello sempre di fare più siti single page rispetto a siti che possiede tante pagine che va in controtendenza sarebbe molto meglio fare un sito con tante piccole pagine che quindi caricano velocemente invece di fare single page invece si va verso il single page masochismo o altro? sì i trend sono sempre quelli di creare pagine siti one page quindi tutto in un'unica pagina e lì diventa più difficile ottimizzarlo perché hai una quantità maggiore di immagini di risorse di animazioni e quant'altro il lazy loading potrebbe aiutare in questo caso carichiamo il contenuto solo quando effettivamente è necessario all'utente ciao allora tendenzialmente penso che il 99,9% dei siti abbiano su analytics facebook tag manager e via discorrendo uno fa un test su page speed su gtmetrics e guarda caso tutti i problemi derivano da analytics da facebook eccetera andando a falsificare ad esempio bloccando il caricamento di questi pixel di questi script esterni che non dipendono dal proprio sviluppo può essere un aiuto diciamo all'ottimizzazione cioè ad esempio io sui miei siti per falsificare i dati diciamo all'utente gli faccio vedere che il sito in realtà è il 99% perché non faccio caricare l'analytics questo mi aiuta ovviamente a vendere un sito ma in generale c'è un modo per ottimizzare questo tipo di problema o solitamente lo script il pixel di facebook piuttosto che google analytics si integra sempre nel header della pagina in modo da ottenere subito il page views su analytics una soluzione potrebbe essere quello di spostarlo nel footer per caricarlo in un secondo momento comunque richiede anche quello delle risorse durante il caricamento però ad esempio se non sbaglio quello di analytics non è cashabile dal browser dell'utente perché è giustamente in continuo aggiornamento e video scorrendo quindi se anche lo mettessi nel footer della pagina proprio come ultima risorsa caricata un page speed mi dice guarda che questa risorsa non è cashabile dall'utente quindi ottimizza questa risorsa di conseguenza io però non posso farci nulla perché ovviamente risiede sul server di google e di conseguenza io non ho accesso a questa roba qua quindi diciamo l'offuscamento di questi script può essere un aiuto diciamo in generale anche in termini di google che mi dice ah guarda questo qua ha delle ottimizzazioni abbastanza abbastanza buone perché non carica determinati script anche se in realtà poi l'utente alla fine li carica perché l'analytics mi serve no perché google appunto utilizza i dati presi da utenti reali quindi non utilizza page speed o audit per capire la velocità della nostra pagina web quindi sarebbe comunque la velocità effettiva che un utente ha percepito caricando il nostro sito web grazie a te ero già qua ciao di nuovo una domanda un po' più pratica purtroppo spesso per questioni voi commerciali voi quello che è si lavora con temi primi non già fatti già impacchettati con una quantità di risorse che è imbarazzante inutile e via discorrendo se si fa un tema custom il problema non si pone se si utilizza un tema del genere sì perché vengono caricate robe allucinanti tu prima hai parlato del non so mai come si pronuncia Dequeue non so come si pronuncia Dequeue è sempre e si può influire può aiutare quello nel momento in cui si utilizza un tema premium sì nel momento che si utilizza un tema premium che carica magari dieci risorse javascript relative a dieci librerie diverse per qualsiasi animazione particolare mai utilizzata è possibile andare a rimuoverlo a toglierlo dalle pagine dove non è necessario o da tutte le pagine se non lo utilizziamo quindi sì è possibile fare un'ottimizzazione sui temi premium anche se ovviamente poi il mio consiglio è quello di basarsi su delle strutture custom in base alle esigenze e poi ci sono casi e casi in cui ci troviamo a dover modificare un sito che è già stato realizzato con un tema premium quello c'è ma poi è sempre lì esatto e lì allora andiamo a eliminare le risorse non necessarie o anche gli elementi del visual composer se c'è che non sono necessari che comunque vengono caricati sia nel back end che anche nel front end li eliminiamo quindi basta visual composer nella vita basta questo è lo slogan grazie a te grazie 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 io volevo solo fare un appunto alla domanda che hai fatto tu perché ci sono anche comunque degli strumenti terzi dei plugin che ti aiutano ad applicare delle regole di ottimizzazione a livello di browser caching per le richieste da terzi però un appunto su quello che stavi dicendo tu devi vendere il sito al 99% 100% a me piacerebbe perché anche io lavoro nell'ambito della web performance che un po' cambiassimo il chip da quel punto di vista cioè se tu vendi qualcosa con l'idea che dietro c'è un falsare dei dati perché il cliente così lo apprezza meglio potresti tornare indietro ed educare il cliente e spiegargli che cosa c'è dietro page speed dietro queste come stava dicendo Igor il 100% è un fittizio è una vanity metric è praticamente qualcosa che ci aiuta ad essere contenti del lavoro che stiamo facendo sì ancora meglio ancora me esatto sì esatto e tu al tuo capo gli dici capo abbiamo la possibilità di entrare nei server di google e metterci le mani e cambiare qualcosa a noi no facebook quello che è abbiamo la possibilità di manipolare manualmente questa cosa no non dipende da noi il nostro sito però è veloce te lo dimostro con gtmetrics con pinindom hai altri strumenti per io sono per la l'analisi c'è il mio ruolo è similare l'acqua è proprio il discorso che non c'è lo so sì 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 no è difficile cioè è una campagna proprio però che dobbiamo prenderci a cuore secondo me perché è l'unica strada in cui possiamo valorizzare veramente i nostri sforzi di web performance quindi non ti sto non sto dicendo a te però dico mi ha fatto ricordare tante conversazioni passate e attuali eh ci sono abbiamo un minuto per una domanda là sopra allora premesso che sono perfettamente d'accordo su questa tua ultima considerazione però mi chiedo a questo punto come ti poni nei confronti del prossimo badge della vergogna che google ha intenzione di di spingere su tutti i risultati ripeto premesso che sono d'accordo sull'educazione purtroppo però appunto sta diventando sempre una cosa conosciuta e quindi il cliente ti chiede ah page speed voglio avere il valore adesso google viene ulteriormente a gamba tesa con questo badge volevo una considerazione generale grazie eh sì da qualche giorno gira questa news di google che introdurrà questo badge sui siti web che sono lenti e su quelli veloci ovviamente li premierà ehm lì bisognerà lavorare su tanti altri aspetti che che cerchino di portare il sito ad avere le migliori performance ed avere quindi un badge che sia in linea con con google e senza mostrare il badge della vergogna agli utenti solo su chrome apparirà sì ma pensi che utilizzerà i stessi parametri di page speed oppure dei parametri reali che utilizza per l'indicizzazione ehm su questo non mi sono informato ma penso utilizzi i dati di page speed insights ah benissimo si basa sempre sul chrome user report che è quel campione di dati esatto quell'estensione di lighthouse tutti i dati che stanno dietro il lighthouse e i dev tool di chrome e quindi da lì sempre prende questi badge sia di page speed che il nuovo badge di lente velocità su chrome che da quello che ho letto verrà fuori dallo stesso database quindi il discorso è sempre quello stiamo facendo delle valutazioni su un report molto piccolo dei utenti reali però molto piccolo rispetto agli utilizzatori web del mondo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti